Buongiorno, buon venerdì mattina a tutti voi, ben ritrovati per Occhio ai giornali, la rassegna stampa di Fano TV. Oggi abbiamo caricato tante pagine, speriamo di fare in tempo a farvele vedere tutte, quindi partiamo subito con il santo del giorno e poi le previsioni del tempo. Oggi i fanesi lo sanno, ma lo diciamo a beneficio di tutti, è San Paterniano, Vescovo, nonché patrono della Città della Fortuna. È venerdì 10 luglio, il sole è sorto alle 5.35 e tramonterà alle 20.52. Vediamo le previsioni del tempo, dalla nostra postazione meteorologica che ci rimanda a una temperatura di 22,5 gradi, però la temperatura è percepita intorno ai 23 gradi perché vedete c'è un'umidità del 72% che aumenta la percezione di calore, la pioggia scrosciante di ieri per pochi minuti ha fatto sì che l'umidità salisse, le temperature sono basse. Vediamo cosa ci fa vedere la webcam, vedete un bel cielo terzo, nessuna nubia all'orizzonte per il momento. Vediamo le previsioni per le prossime ore, quali saranno, vedete la simbologia della cartografia è molto eloquente, sole pieno nella nostra provincia, un po' di nuvolosità sui rilievi e anche per il resto della regione insomma è cero, sereno e poco nuvoloso, precipitazioni assenti, le temperature qui le danno in diminuzione quindi speriamo che ci diano un po' di tregua per sabato, anche qui lo schema è lo stesso, bel tempo, nessuna simbologia di pioggia quindi nessuna precipitazione, vediamo per domenica ecco compare qualche velatura però sostanzialmente il cielo è poco nuvoloso e al più sereno senza precipitazione. Vediamo quale sarà la tendenza per i giorni successivi perché forse dai primi giorni della settimana prossima si ritornerà su temperature importanti, condizioni stabili però e soleggiati quindi con temperature appunto in graduale aumento nella prima parte della settimana. Vediamo dopo, insomma anche nelle pagine del messaggero che c'è sempre un trafiletto dedicato alla meteorologia, ci dicono che le temperature saliranno e partiamo con il messaggero di Pesaro dove la questione caldo e insomma temperature in ospedale sta creando strascichi e quindi dopo l'AFA ospedale le accuse da ieri è tornato il fresco grazie ai condizionatori portatili acquistati d'urgenza. Il centro Marche Nord però proteste sulla gestione del problema dei cantieri e dopo vedremo all'interno l'articolo. Fotonotizia d'auditore, lacrime di sangue sul volto della Madonnina, il sindaco e il vescovo dicono bisogna fare chiarezza ed ecco vi dicevo il trafiletto della meteorologia. Da lunedì è categorico Massimiliano Fazzini e dice appunto ancora caldo africano e allora eccole qua le polemiche del tempo caldo che ha creato disagi notevoli agli ospedali sia di Fano che di Pesaro. Torna il fresco ma in ospedale divampa altro calore a seguito della polemica in funzione da ieri climatizzatori comprati di tutta urgenza però fiocca una accusa sulla gestione dei cantieri e le polemiche. Vedete Aldo Ricci il direttore di Marche Nord. È stata indetta anche una conferenza stampa in dato odierna per parlare di questa situazione e quindi sentiremo nel Tg poi di questa sera quale sarà l'esito di questa conferenza. Rimaniamo nelle pagine del messaggero. Ci sono stati i funerali ieri della donna investita dal Pirata della Strada, parole commosse di Don Alberto, i funerali della donna travolta in via Gorizia. Chi ha investito, Patrizia, si penta queste le sue parole. Il peruviano indagato è ancora in Abruzzo, il suo avvocato dice sempre sotto shock per quello che è successo. Questa è la pagina che vi ho fatto vedere prima e ecco questo è l'episodio lacrime sulla statua della Madonnina. È un fenomeno inspiegabile o è uno scherzo. I medici però hanno accertato che il liquido è ematico, non si sa ancora se umano o animale. Tutto è cominciato dopo la morte dell'anziana signora che prendeva cura di questa immagine. Processioni spontanee e autorità in allarme perché la diocesi dice vogliamo fare chiarezza ma il sindaco Zito dice c'è anche un problema di sicurezza nella via dove è collocata questa madonnina. Pagina di Fano del messaggero, rimaniamo sul quotidiano romano. Aset, si parla di Aset, la fusione mi pare vicina ma l'opposizione non ci crede. A parlare è Susanna Testa, presidente della Holding. Siamo una società sana e stiamo lavorando per trovare l'accordo con la SPA. queste le sue parole e quindi a tutta pagina nel messaggero c'è questo articolo e poi di spalla naturalmente la tombola in piazza di San Paterniano. Ed eccola qui, anche una pagina che riguarda Senigallia perché anche Senigallia sta vivendo momenti particolari sulla sicurezza per via della viabilità ma anche dei furti che anche quella zona è flagellata da questa metodica di furto. Torna la banda del buco, ladri nelle case mentre tutti dormono. Raffica di colpi notturni, infissi forati come anche da noi qui a Fano a Pesaro. Trappano, da un trapano, appello degli investigatori fate massima attenzione. E poi al Cesano sono andati in blackout per un paio di ore a causa di tutti i climatizzatori accesi, quindi di una richiesta di energia inconsistente e quindi il sistema non ha retto. Cambiamo la testata, andiamo nel Corriere Adriatico, perché anche qui vi faccio vedere la pagina dedicata a Senigallia, naturalmente anche qui si parla della banda del buco in azione, ma c'è un addio a una vittima dell'amianto, si chiamava Marcello Mariselli, è morto a 85 anni dopo un calvario di una malattia ai polmoni causata appunto dall'amianto, un ex dipendente di un'azienda, la Sacelit, che continua a mettere vittime tra i suoi ex dipendenti, il figlio Massimo, dice mio padre è sempre stato un guerriero, ha lottato fino alla fine. Ancora la pagina di Pesaro del Corriere Adriatico e anche qui posizione centrale, osservatorio accusa, disastro termico e vertici incapaci e per oggi partono, e per il patrono oggi a Fano non verranno effettuati i prelievi a causa appunto della festa del patrono, ricadute su tre ospedali e poi un incidente ieri sulla strada del Boncio alle ore 19 più o meno, frontale tra una moto e un autocarro e grave un carabiniere sul posto anche i genitori del militare che ha 30 anni. Anche qui riportate nelle pagine interne che riguardano l'interno, la Madonnina in lacrime, piange, lacrime di sangue, le analisi lo confermano, una macchia anche nel quadro vicino alla statua ad auditore, c'è chi grida al prodigio, ma abbiamo visto che ancora è tutto da verificare, scoperta dalla signora Ada, cognata dell'89enne che per 30 anni ha custodito il tempietto ed è morta il 5 luglio scorso. La pagina di Fano del Corriere Adriatico, sulla viabilità c'è una presa di posizione dei marchegiani che illustra il progetto, nuova segnaletica, correttivi in via Fanella che resta a doppio senso, al Poderino saranno investiti 50 mila euro per la viabilità e poi un solo giudice di pace, cause civili rinviate a dicembre. Il CSM ha revocato l'incarico all'avvocato Luciano Romanelli in attività, resta illegale Pericle-Taiarol, quindi ecco che a dicembre si avrà l'egito delle cause in questo momento. Vi faccio vedere appunto stasera tutti in piazza con la maxi tombola, parliamo quella di San Parteniano, una tombola che ha anche un risvolto di beneficenza e quindi si attendono centinaia di persone al tradizionale appuntamento in piazza con il Torricino, il Monte Premi è di 2.000 euro, 1.250 per l'unplene, quindi per la tombola, 500 per la cinquina e 250 per la quaterna. Pagina del Carlino perché è un'estate rovente a Pesaro non solo per le temperature e per i condizionatori in tilt dell'ospedale ma anche per un caso, quello del festival di cui Zingaretti era a capo, conta più delle emergenze, il suo doc festival che è costato 160.000 euro. L'opposizione dice i soldi per far questo festival sono stati prelevati dal fondo di riserva. L'argomento è un po' fumoso, la delibera cita iniziative per promuovere Pesaro, città di arte e cultura. Il comune, chiarimenti, vengono richiesti, quindi il comune dice attendere la pubblicazione dell'albo pretorio della spesa e poi gratitudine in tv ha prodotto soltanto il grazie di Montalbano al sindaco, uno spot da 160.000 euro, delibera misteriosa, dovevano parlare a maggio invece ci è stata riferita a festival concluso, le accuse appunto che arrivano dall'opposizione per questo festival. Però un fatto di cronaca è riportato nelle prime pagine che riguardano la sezione della provincia di Pesaro, due cugini in Germania, in vacanza sono stati accoltellati e aggrediti da un ubriaco in un bar, è stato arrestato un somalo ubriaco, sono di Carpegna, il ragazzo è grave. La madre dice in uno sfogo non lo perdonerò, ma spero che a differenza dell'Italia lo tengono a lungo in carcere, vedete la foto dei due cugini coinvolti in questa amara vicenda in vacanza. E poi il mare, il mare è sempre d'estate tenuto sotto controllo dai nostri bagnini, dai nostri angeli custodi che fanno sì che le nostre giornate siano serene il più possibile e quindi sono in piena attività. Cinque salvataggi in mare, super lavoro per i bagnini della Coop, il faro, già cinque salvataggi, corrente molto forte e vento, interventi sulla spiaggia di Ponente, quindi riacciuffati padre e figlio e poi anche una mamma e una figlia che si trovavano in impasse per il mare grosso. E poi lutto nel mondo dell'imprenditoria, è morto Battistoni che è stato un pioniere del mobile nel comparto pesarese, è RB Cucine e dirigenti della VIS in lutto. Le pagine di Fano del resto del Carlino che sono le ultime che vi facciamo vedere per questa mattina, anche qui approvato il bilancio, pronti alla fusione, si parla di Aset Holdin, la Presidente Susanna Testa, dice abbiamo rispettato i tempi tecnici e sull'advisor, dice non lo abbiamo chiesto noi e quindi il consigliere Teodoro Auspici di Sinstruinte dice appunto questa è una cosa che non abbiamo chiesto noi ma vedremo come procederà questa questa questione dell'advisor. E poi nuovo incidente, un bambino è morto, stavolta è andata bene, è a bordo, è stato travolto però stavolta è andata bene con un bambino a bordo, è un incidente per fortuna senza conseguenze ieri poco dopo le 12 all'altezza del cimitero di Rosciano con una BMW di grossa cilindrata, però insomma il bambino sta bene, insomma questa volta non ci sono state conseguenze. E poi San Paterniano, la grazia del protettore vincere il tombolone come da tradizione alle 22 tutti in piazza il Montepremio, abbiamo già detto a 2.000 euro. Chiudiamo con l'outlet a Marotta, ad alzare il tiro è Confcommercio per voce di Amerigo Varotti che si pone delle domande su questa vicenda, chi ha promesso che l'outlet si sarebbe fatto e quindi Amerigo Varotti chiede chiarezza su questa vicenda, lo sviluppo del territorio non può essere deciso perché c'è un interesse privato alle spalle, questo è il suo pensiero. Grazie per essere stati in nostra compagnia, è tutto per questa rassegna stampa di oggi, San Paterniano e quindi godetevi questa giornata di festa per chi la fa, noi questa sera invece saremo qui puntuali alle 20.30 con Occhio alla Notizia per darvi le news del giorno, buon proseguimento di mattinata a tutti voi, arrivederci a domani.